La Nissa annuncia l'arrivo di Bruno Bryan, classe 1994, attaccante brasiliano. Punta centrale, ex Roccella, Bryan ha maturato diverse esperienze pure in Portogallo. In bianco scudato anche Giacomo Sinatra, 19 anni, altro attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Catania, ex San Cataldese. Confermato Mattias Ferraro, 25 anni, centrocampista, nella Nissa dal dicembre dello scorso anno, che in passato ha indossato anche le maglie di Atletico Nissa, Castelbuono, Profavara, San Cataldese, Vittoria e Serra di Falco. Intanto è polemica a distanza con l'ex presidente Arialdo Gianmusso. Alcuni suoi post su Facebook riguardanti la Nissa non avrebbero incontrato il gradimento della dirigenza. Ieri ha espresso dispiacere l'attuale massimo responsabile Sergio Iacona in un comunicato diffuso anche attraverso il canale social Bianco Scudato. E dispiacere era stato manifestato in precedenza anche da Gianmusso per la scarsa riconoscenza di una frangia di tifosi, e non solo, nei suoi confronti dopo l'impegno profuso alla guida della massima espressione calcistica cittadina.